Poi a seguire scenderanno gli altri ministri che in questo momento sono impegnati in un'altra riunione. Prego Ministro. Grazie. Il Consiglio dei Ministri all'interno del decreto legge approvato questa mattina ha inserito delle norme relative al credito d'imposta, questione dibattuta nei giorni scorsi. Le decisioni sostanzialmente riguardano gli aspetti finanziari e organizzativi. Sono stati inseriti 1 miliardo e 600 milioni che raddoppiano l'importo previsto originariamente, quindi la quota assegnata al credito d'imposta è di 3,2 miliardi di euro, ai quali si aggiunge la possibilità con un articolo specifico per i programmi regionali e i programmi nazionali della coesione di poter utilizzare queste risorse in aggiunta ai 3 miliardi e 200 milioni di euro in modo facoltativo. Lo dico perché già nella programmazione precedente diverse regioni hanno utilizzato come strumento di rendicontazione il credito d'imposta. I programmi che si aggiungono 3 miliardi e 200 milioni di euro che è l'attuale dotazione finanziaria del credito d'imposta sono di un importo complessivo superiore ai 4 miliardi e 200 milioni al netto di una parte di questi programmi che sono stati impegnati, quindi complessivamente le risorse a copertura del credito d'imposta sono di una cifra come non è mai stato previsto e immaginato. Questo lo dico perché nel frattempo vorrei sottolineare che la legge prevede che entro il 15 di novembre gli interventi devono essere realizzati e quindi noi abbiamo fatto una verifica su 9 miliardi e 400 milioni di euro ad oggi gli interventi che risultano realizzati sono 167 milioni di euro pari a meno del 2 per cento. Quindi evidentemente con questo provvedimento di oggi che prevede entro il 2 di dicembre la data entro la quale dal 15 novembre al 2 di dicembre le imprese devono presentare la documentazione attestante l'intervento realizzato e nei dieci giorni successivi l'agenzia delle entrate farà il provvedimento. Quindi il provvedimento di cui abbiamo discusso dieci giorni fa non esiste più, quello relativo all'assegnazione del 17 per cento perché non c'è più questo provvedimento. C'è un importo che è di gran lunga superiore. Prima era solamente superiore adesso è di gran lunga superiore. Evidentemente dobbiamo completare la fase di verifica delle domande relative ai 9 miliardi e 400 milioni. Vorrei ricordare come ho fatto l'altra volta che dal 2016 data in cui esiste il credito d'imposta fino al 2020 le risorse assegnate in bilancio sono state di 600 milioni di euro l'anno, nel 2021 e 22 di 1 miliardo e 54 milioni di euro, nel 2023 cioè l'ultimo dato disponibile 1 miliardo e 400 milioni spesi realmente 1 miliardo e 300 milioni. Quindi è evidente che oggi noi di fronte ad una, se mi posso permettere, tempesta in un bicchier d'acqua che si è creata perché di questo parliamo relativa al fatto che c'era la differenza tra i 9 miliardi e 400 milioni di euro di domande rispetto alla disponibilità finanziaria e con questa scelta del governo creiamo le condizioni per dare una risposta chiara e per dare assicurazioni in questo senso al sistema delle imprese. Voi sapete che ci sono state 16 mila domande divise per tutte le regioni e quindi il meccanismo messo in campo oggi non solo garantisce le coperture finanziarie ma crea anche le condizioni per dare una risposta strutturale. Questo penso che sia un modo chiaro per evitare polemiche e soprattutto in molti casi anche polemiche che consentitemelo sono state molto strumentali in questo senso. Bene, grazie. Ci sono domande dei colleghi? Prego. Buongiorno Giuseppe Colombo della Repubblica. Un dossier molto caldo che ancora oggi ha una soluzione è quello delle concessioni balneari. Venerdì i titolari delle attuali concessioni protesteranno, insomma, protesta simbolica però chiedono da tempo un intervento. Ecco, volevo sapere se il Governo ha deciso, diciamo, un po' come uscire da questo vicolo cieco in cui si è ritrovato. Grazie. C'è un confronto sul parere motivato che la Commissione europea aveva predisposto ed è un confronto che va avanti con le sue complessità. Le domande? Aspettiamo i prossimi ministri che arriveranno tra poco dopo una riunione. Grazie. Grazie a voi. Allora, credo che il Ministro Fitto abbia cominciato per ragioni di tempo a spiegare quella che è, diciamo, la norma più importante che è contenuta nel decreto legge in relazione al funzionamento della ZES Sud, ZES Unica Sud. Il provvedimento contiene anche altre misure di carattere fiscale di finanza pubblica, in particolare quella che ha fatto molto rumore è, diciamo, il raddoppio della cosiddetta flat tax per miliardari, per semplificare, che decidono di trasferire il domicilio fiscale in Italia. Sono altre disposizioni di carattere di manutenzione, in particolare per le società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, in chiarimento per quanto riguarda l'assoggettamento alla disciplina dell'IVA e, appunto, sempre in materia di IVA per quanto riguarda i maestri di sci e il trasferimento dei cavalli di allevamento, i puledri, soltanto per contrastare quella che è la concorrenza, diciamo così, in materia fiscale che arriva da altri Paesi. Abbiamo poi introdotto delle misure, chiamiamole, di chiarimento per quanto riguarda il versamento delle imposte da parte degli enti locali e le nuove modalità, o meglio, il trasferimento in legge di quello che è l'applicazione della spending review per quanto riguarda le regioni. È previsto anche l'integrazione, non vedo qua il Ministro, non so se poi viene, sta arrivando, allora parlerà lui, dell'integrazione del Fondo delle Emergenze Nazionali. Niente, questo è fondamentalmente il contenuto delle misure di carattere fiscale e di bilancio. C'è poi, e credo che ovviamente sia una notizia che peraltro è già ampiamente stata data, l'indicazione della nuova ragioniera generale dello Stato nella pressione di Daria Perrotta, quindi la prima, diciamo così, donna che sorge a questa carica. Mi fermo qua. Io in parte mi ricollego al DL, ma solamente per una norma, anzi direi per un paio di norme, e invece vi presento, come ho presentato al CDM, il disegno di legge dedicato alla valorizzazione dei ricercatori, della ricerca e dell'attrattività della ricerca in Italia. Le due norme che riguardano il DL attengono ad un percorso che abbiamo avviato insieme alla Conferenza dei Rettori dell'Università Italiana e naturalmente a tutti i nostri stakeholders, ai nostri, diciamo, referenti di categoria, per garantire una maggiore flessibilità sia ai rettori, quindi sia agli Atenei, sia alle università, per poter disporre dei numerosi, e in questo periodo particolarmente cospicui, fondi di finanziamento che vengono dall'Italia e dall'Europa, di cui il Fondo per il Finanziamento Ordinario è solamente uno, certamente il principale degli esempi. Abbiamo liberato quindi 50 milioni del Fondo per il Finanziamento Ordinario in accordo con la Conferenza dei Rettori, proprio per avviare un percorso di rispetto e ulteriore valorizzazione dell'autonomia degli istituti universitari ed affermazione della conseguente inevitabile responsabilità di chi gode di autonomia, non solamente ovviamente didattica e formativa, ma anche organizzativa e gestionale. Quindi maggiore flessibilità nella gestione dei fondi, maggiore trasparenza, efficienza e operatività nell'organizzazione dei bilanci, tutto questo per garantire un giusto equilibrio tra autonomia e responsabilità, ovviamente nell'interesse dell'università, del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, ma anche e soprattutto degli studenti. A questo proposito, e con questo concludo, il tema del disegno di legge si riferisce alla valorizzazione dei ricercatori e della ricerca che in questo momento godono di una tutela limitatissima, o meglio, direi che per come si propone ora lo schema contrattuale del ricercatore o del neolaureato, del dottorando o del dottorato, che vuole accedere alla ricerca nelle, gli ambiti sono, università, enti di ricerca e istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreotica, che sono le tre anime del Ministero dell'Università, chiunque voglia accedervi ha due possibilità. L'una, che si chiama contratto di ricerca, che è cristallizzata come milestone dal 2022 nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Contratto di ricerca che il Ministero dell'Università ha dichiarato già applicabile, nonostante sia oggetto di una contrattazione collettiva non ancora chiusa tra l'ARAN e i sindacati, perché uno dei presupposti di questo contratto è che vi sia una contrattazione collettiva sulla retribuzione e sulle tutele. Noi abbiamo predisposto una retribuzione minima, al netto della contrattazione che continua con l'ARAN, quindi le università possono già, volendo, applicare il contratto di ricerca. L'altra alternativa allo Stato, prima del nostro DDL, sono i famosi assegni di ricerca, di cui avrete sicuramente sentito parlare, che noi abbiamo prorogato al 31 dicembre 2024 e che non abbiamo intenzione di prorogare più. Quindi dobbiamo ovviare ad una mancanza che in questo momento il nostro sistema di ricerca ha sotto il profilo contrattuale e borsistico e abbiamo per questo previsto diverse figure di borse e contratti a tutele crescenti, che partono dal contratto di ricerca, quello del 2022, quello che rappresenta la milestone intoccabile e che è ancora oggetto di contrattazione tra l'ARAN e i sindacati, ma è comunque già applicabile, anche se nessuna università ancora l'ha applicato, e si articola su altre quattro figure contrattuali e di borse che noi abbiamo previsto e che il CDM questa mattina ha approvato, che prevedono diverse intensità sia di tutela sia di capacità retributiva a seconda di quello che l'università e il ricercatore o la ricercatrice vogliono fare ed ottenere dal loro lavoro. Quindi se si è ancora studenti, si può essere contrattualizzati con un contratto di ricerca, questo si ricollega anche ad una norma sul codice di diritto industriale che abbiamo fatto l'anno scorso che prevede che qualsiasi lavoro di ricerca, anche da parte di uno studente, possa e debba essere retribuito. Quindi un certo numero di ore, 200, anche gli studenti se fanno attività di ricerca li avranno retribuiti. Esistono borse junior e senior di attività di assistenza alla ricerca che riguardano quelle juniori neolaureati e quelle seniori già dotati di dottorato di ricerca. Esiste il cosiddetto postdoc, di cui avrete tutti sentito parlare, che è un po' quello che in tutto il resto del mondo rappresenta un passaggio verso la stabilizzazione, verso il passaggio del ricercatore, verso la stabilizzazione dell'università o il passaggio verso nuove attività di ricerca. E poi il contratto di ricerca, quello che vi dicevo prima, che comunque rimane il riferimento e la milestone di tutto questo percorso, che noi abbiamo chiamato una cassetta degli attrezzi. Questo si ricollega al principio di autonomia e responsabilità. Noi dotiamo gli atenei e naturalmente i ricercatori di molti più strumenti di quanti non abbiano ora. Ora è l'inferno del precariato. O il contratto di ricerca mai applicato o gli assegni di ricerca. Noi riempiamo il vuoto con altre opportunità contrattuali che naturalmente varieranno a seconda del tipo di ruolo e del tipo di natura che dovrà essere svolta e concordata tra il ricercatore e l'università a seconda delle circostanze. Premetto, lo ripeto ancora una volta, scusate, a tema di sembravi arteriosclerotica, il contratto di ricerca rimane, perché questo sarà uno dei temi dominanti della narrativa di quello che faremo da adesso in poi, solo due altre avvertenze. Ho presentato ovviamente il disegno di legge prima ai miei colleghi, il Consiglio dei Ministri, che a qualsiasi altro, perché mi sembrava doveroso, è oggetto di un lavoro che abbiamo fatto con un gruppo, un tavolo di lavoro rappresentato anche dalla conferenza dei rettori dell'università italiana, da una rappresentante del CUN, dal Presidente dei Presidenti degli Enti di Ricerca italiani. Quindi abbiamo coinvolto i nostri stakeholder. Però ho avvertito soprattutto le parti sociali, che ho incontrato la settimana scorsa, che da settembre in poi comincerà un confronto non solo in Parlamento, ma anche concretamente sui testi, e che, seconda avvertenza, noi attiveremo presso il Ministero dell'Università e della Ricerca un osservatorio che valuterà l'impatto di queste norme nei prossimi tre anni. Perché, come ogni innovazione normativa, bisogna essere pronti, nel momento in cui si presenta una criticità, una asperità applicativa a risolvere il problema lì e allora. Di questo osservatorio, naturalmente, faranno parte tutte le rappresentanze coinvolte nel contenuto di questo disegno di legge. Grazie. Grazie, Ministro. Ministro Pichetto, Fretin, prego. Grazie brevemente, ma brevemente si tratta di uno schema di decreto legislativo, l'esame preliminare di questo schema di decreto legislativo, per la semplificazione amministrativa nei processi di autorizzazione delle rinnovabili. Passiamo da cinque tipologie di procedura a tre tipologie, praticamente con la distinzione tra le attività libere, quelle fino a una certa quota di megawatt, tipo 10 megawatt per il fotovoltaico, le attività con una procedura abilitativa semplificata, che è la fascia di mezzo, e poi un'autorizzazione unica per quelle grandi. La sostanza è questa, è chiaro che si riducono notevolmente i tempi, i termini dell'azione, per quanto riguarda le procedure, e quindi si tenta di dare un'accelerata su questo fronte rispetto alla tempistica che è sempre molto lunga. Grazie, il Vice Ministro Leo. Grazie. Oggi sono stato approvato in via definitiva due decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale. Con questi siamo a 13 decreti legislativi approvati. Come voi sapete la legge delega è stata varata in via definitiva dal Parlamento nel mese di agosto del 2023. Nel giro di 12 mesi abbiamo in qualche modo rivisto per buona parte il sistema fiscale italiano. Abbiamo ridotto le sanzioni, abbiamo introdotto una disciplina per la cosiddetta Global Minimum Tax, quindi per le multinazionali che hanno società che producono redditi assoggettati a tassazione in misura inferiore al 15%. Abbiamo adottato maggiori garanzie per il contribuente, abbiamo rivisto lo statuto per il contribuente, avviando meccanismi di dialogo, di contraddittorio e di rapporti molto più sereni tra amministrazione finanziaria e contribuente. Tutto questo nella logica ex ante, noi vogliamo in via preventiva che il fisco dialoghi con il contribuente senza ovviamente abbassare la guardia nei confronti degli evasori, senza abbassare la guardia nei confronti di coloro che pongono in essere frodi fiscali. Abbiamo rafforzato l'adempimento collaborativo per le imprese di maggiori dimensioni e introdotto il concordato preventivo biennale che ovviamente darà sicuramente risultati interessanti a partire da settembre perché, come sapete, il termine per aderire alla proposta dell'amministrazione finanziaria è fissato al 31 di ottobre. Abbiamo ridotto la liquid da 4 a 3 IRPEF, abbiamo rivisto buona parte, come dicevo, del sistema tributario. Tutto questo è reso possibile anche grazie al supporto fondamentale del Ministro Giorgetti, del Consiglio dei Ministri e di tutte le componenti parlamentari, Camera-Senato, le commissioni parlamentari, la conferenza unificata. Abbiamo fatto tutti i passaggi che erano necessari. Per quanto riguarda i provvedimenti di oggi, si riguardano due comparti. Il comparto delle imposte indirette diverse dall'IVA e il comparto delle dogane. Per quanto riguarda il settore delle imposte indirette diverse dall'IVA, abbiamo lavorato sul versante delle successioni e donazioni per semplificare i rapporti. Abbiamo disciplinato in modo organico il Trust, che è un istituto di origine anglosassona ma che non aveva una sua codifica espressa nel nostro ordinamento. Abbiamo previsto che anche quando i beni vengono immessi in Trust si possa pagare l'imposta in via anticipata e non al momento in cui i beni vengono assegnati ai beneficiari. Abbiamo disciplinato i trasferimenti d'azienda e di partecipazione prevedendo la non applicazione dell'imposta nel momento in cui si mantiene la partecipazione di maggioranza o si trasferisce un'azienda nell'ambito dei familiari. Abbiamo introdotto meccanismi telematici per l'invio della dichiarazione di successione. Abbiamo introdotto l'autoliquidazione dell'imposta sulle successioni. È un tema che è di grande rilevanza. Riguarda soprattutto i giovani. Molti giovani oggi quando si apre una successione devono pagare immediatamente le imposte ipotecarie e catastali e molto spesso le banche e gli istituti di credito non liberano la disponibilità se non al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Abbiamo detto no, in questo caso la banca deve immediatamente liberare le somme in modo che i giovani possano far fronte al pagamento delle imposte. Altro settore importante riguarda l'imposta di registro. Spesso accade che si faccia un decreto ingiuntivo, ci sia una sentenza di condanna ma il soggetto debitore non ha la disponibilità e quindi vengono richieste queste somme a chi ha chiesto il decreto ingiuntivo e ha ottenuto una soddisfazione da parte dell'autorità giudiziaria. Allora si dice no, in questo caso sarà sempre l'obbligato, sarà sempre colui che non ha adempiuto l'obbligazione a pagare quindi non ci si può rivalere in via diretta nei confronti di colui il quale ha avviato una procedura giurisdizionale. Anche sull'imposta di bollo abbiamo introdotto una dichiarazione integrativa per correggere errori o domissioni, per indicare un maggior debito o un minor credito oppure per richiedere un maggior credito a favore del dichiarante. Il secondo provvedimento riguarda le dogane. Anche qui una rivoluzione governicana, consentitemi il termine, è stata fatta perché rispetto a un testo unico che conteneva oltre 300 articoli abbiamo asciugato il testo unico portandolo a 120 articoli tenuto conto del fatto che ormai la normativa doganale ha una sua matrice comunitaria quindi prevalgono i regolamenti comunitari e le norme interne sono sicuramente più norme di dettaglio. Abbiamo rivisto l'istituto del contrabbando al fine di contrastare le frodi e tutelare i contribuenti. Da ultimo ricordo in prima lettura ci sono stati due, un decreto legislativo che dà attuazione a due direttive comunitarie. È una prima lettura, ovviamente dovrà fare il suo iter parlamentare. La prima direttiva riguarda il regime speciale per le piccole imprese. laddove in altri paesi c'è un regime forfettario analogo al nostro quindi con il famoso tetto di 85 mila euro ecco anche qui abbiamo evitato che il soggetto si debba identificare nel paese dove vengono effettuate cessioni o prestazioni. E al tempo stesso, questo è un risultato importante, come sapete il regime forfettario italiano viene a scadenza il 31 dicembre del 2024 in attuazione di questa direttiva non si dovrà più chiedere autorizzazione all'Unione Europea quindi in via automatica il regime forfettario permarrà. L'ultima cosa che volevo segnalare riguarda gli spettacoli resi in modo virtuale laddove vengono effettuati, pensate a film o altri meccanismi di diffusione in modo virtuale l'imposta l'IVA dovrà essere assolta nel paese del consumo quindi anche qui si fa chiarezza su un aspetto che presentava profili problematici. Grazie. Bene, grazie al Vigionistro. Iniziamo con le domande. Abbiamo Colombo di Repubblica. Ministro Giuglietti, buongiorno. Lei nelle scorse ore è escluso che ci sia lo studio una tassa sugli extraprofitti delle banche, delle assicurazioni, comunque delle imprese che hanno fatto utile allo stesso tempo, lei ripete da tempo, che anche le banche devono contribuire all'economia reale. Ecco, volevo capire in che forma si è escluso definitivamente anche un prelievo sotto forma di contributi di solidarietà. E poi le volevo chiedere anche in riferimento alla designazione venuta oggi dalla nuova ragione dello Stato Dario Perrotto ci sono state già critiche da parte del PD e non solo per una figura che non arriva da ambienti come la Banca d'Italia. Volevo sapere se non teme che la ragioneria possa avere una reazione avversa a questa designazione. Grazie. Parto dalla ragioneria. Se la ragioniera generale dello Stato arriva dalla Corte dei Conti della Banca d'Italia è un peccato mortale? Ho compiuto un peccato mortale. Siccome è brava, lo dicono tutti, e io ho pensato ad indicarla. Ha lavorato anche per governi che non di centro-destra, anzi diciamo così, chiamiamoli rosso-verdi. Comunque lasciamo perdere. Mi sembra una polemica, se volevano fare polemica quelli delle opposizioni dovevano cercare un altro terreno. Per quanto riguarda la tassazione delle banche, io ho visto tutto questo dibattito, io e Maurizio Leone abbiamo anche in qualche modo commentato come nascono queste notizie dal nulla. certamente le banche, come le altre realtà che fanno utili, che stanno bene, saranno chiamate, come sono chiamati tutti i cittadini italiani, a contribuire alla finanza pubblica. Quindi io penso che non ci sia niente di strano. Se vogliamo invece parlare di tasse sugli estra-profitti, non ci saranno tasse sugli estra-profitti. Le tasse sui profitti però sì, per loro come per tutti gli altri. Grazie, abbiamo Caruso del Foglio. Sì, salve Ministro. Le volevo chiedere, il MEF, lei sarà chiamato a indicare i prossimi vertici della RAI, a D è Presidente. Le volevo chiedere innanzitutto cosa ne pensa della notizia mai smentita della Premier di privatizzare la RAI. Vorrei sapere se lei ha anche dell'opinione di privatizzarla. E, seconda domanda, se il Direttore Generale, il papabile, prossimo Presidente della RAI, a D della RAI, Gian Paolo Rossi, è un manager che lei ritiene adeguato per governare un'impresa così importante. Grazie. Facciamo sempre al contrario. Per quanto riguarda i vertici della RAI, ricordo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base all'attuale normativa che non abbiamo fatto noi, ha fatto un governo di sinistra, adesso vedo che contestano quello che hanno fatto loro, a margine di autonomia, per quanto riguarda l'amministratore legato, ritengo che Rossi sia una persona assolutamente in grado di fare questo mestiere. per quanto riguarda il Presidente non dipende soltanto da me, dipende dal fatto che la Commissione di Vigilanza deve confermare, con una maggioranza che la legge prescrive significativa, qualificata, la figura del Presidente che assolve il compito di garanzia. Quindi la scelta del Presidente ha anche altri tipi di valutazioni, oltre a quelli della esclusiva managerialità che ha l'amministratore legato. Poi c'era anche l'altra, la prima questione, la privatizzazione. Prima di arrivare a parlare di privatizzazione, bisogna capire che cosa si intende per servizio pubblico. Quando abbiamo definito cos'è servizio pubblico e interesse pubblico, poi possiamo valutare le ipotesi di privatizzazione. Se la legge mi dice che quello che fa la RAI è tutto servizio pubblico, tale dovrà rimanere la società. Se la RAI fa anche cose che non sono di servizio pubblico, o non sono essenzialmente di servizio pubblico, uno può valutare anche ipotesi di parziale privatizzazione. Però il riferimento è il concetto di servizio pubblico, come definito dal testo unico, con la roba lì che si chiama TUSBAR, tutti i nomi più possibili di fantasia. Ecco, con la roba lì, bisogna prima leggere quello lì e poi dopo arriva per derivata. Uno deve chiedersi che cosa fa la RAI. Se ha un contratto di servizio stabilito dalle commissioni, è stato recentemente approvato, evidentemente in quel contratto di servizio chi ha la responsabilità, che non sono io, di stabilire quali sono le funzioni pubbliche della RAI, lì sta scritto esattamente il confine dell'azione della società e quindi eventualmente le eventuali possibilità di privatizzazione, tanto per semplificare. Clarissa Cancelli, la 7. Sì, salve. Una domanda al viceministro Leo. Ieri il sottosegretario Freni, da noi proprio in diretta all'area che tira, ha detto che non verranno toccate le detrazioni sulle spese mediche. Io quindi le chiedo se sarà fatta la stessa cosa per il 50% di bonus per le ristrutturazioni edilizie o se l'aliquota sarà rivista al ribasso. Grazie. Abbiamo detto, il sottosegretario Freni ieri l'ha ricordato, che tutto il sistema delle detrazioni, soprattutto quelle più importanti, quelle più significative per i contribuenti, non verranno toccate. Ovviamente poi dovremmo fare delle valutazioni per quanto riguarda detrazioni o credit d'imposta, diciamo, di minore rilevanza per il mondo dei contribuenti, sui quali si potrà fare un ragionamento in sede di approvazione della legge di bilancio. Public Police, Valentina Pigliautile. Salve, ora è una domanda per il Ministro Pichetto. Qualche preoccupazione si è attirata nei giorni scorsi l'ultima bozza del testo unico per quanto riguarda il regime amministrativo in attività libera, perché sono stati introdotti dei paletti. Alcune, anche associazioni del settore, hanno detto che questa è una decisione che potrebbe andare, diciamo, in una direzione opposta rispetto al PNRR ma anche al PNIAC. Io volevo chiederle se i paletti che sono stati posti e che abbiamo visto nell'ultima bozza sono stati mantenuti e che cosa ne pensa, insomma, delle preoccupazioni che sono giunte in questi ultimi giorni. Grazie. Ma quando si costruisce un provvedimento bisogna anche mediare le varie posizioni, riducendo in modo forte i termini per naturalmente poter procedere e in particolare rendendo fino a una certa quota libera, di libera edilizia gli interventi, è chiaro che vanno messe anche tutele rispetto ad alcune valutazioni, essenzialmente di ordine paesistico, in questo caso paesistico-culturale, con quindi la valutazione di intervento. Anche quel tipo di intervento, però il tipo paesistico-culturale, quindi ambientale, ha termini che sono abbastanza precisi. Pertanto va a compensare quella che può essere considerata per alcuni un eccesso di liberalizzazione. Però è una mediazione e le mediazioni peccano purtroppo sempre di qualche difetto a seconda della parte della medaglia che uno va a vedere. È stata mantenuta. Bene, ultime due domande. Chiara De Felice e Ansa. Buongiorno, una domanda per il Ministro Giorgetti. Cominciano a girare i primi numeri del tesoretto per la manovra dell'anno prossimo, grazie ad entrate più importanti del previsto. Volevo sapere se secondo lei è verosimile che questo tesoretto possa toccare i 20 miliardi. Poi una domanda per la Ministra Bernini. Dopo le polemiche tra Rettori e Ministero sui fondi del 2024, se avete intenzione di fare un intervento su questo. Grazie. Tesoretti, francamente è una bella storia anche quella del tesoretto. Aspettiamo quando finiranno tutte le autoliquidazioni, ci sono delle scadenze che sono state prorogate e quindi poi tireremo le somme. Dopodiché, come ci insegnano le Olimpidi, non è che uno che arriva a 100 metri del traguardo dice ho vinto. o no? Avete visto qualcuno di Olimpidi che ha 100 metri del traguardo? Ah, ho vinto il tesoretto. No, aspettiamo alla fine perché quello è il momento della verità. Giusto, Maurizio. Dopodiché faremo le nostre valutazioni. invito a valutare l'andamento delle entrate rispetto alle previsioni e non rispetto all'anno scorso. In secondo luogo, le previsioni che facciamo noi al MEF e che vengono contestate da tutte le parti, dall'incremento del PIL, in questa stessa conferenza stampa, forse ricorderete quando abbiamo stimato l'1% di incremento del PIL, naturalmente, puntualmente tendono a verificarsi e quindi vuol dire che le previsioni le facciamo in modo serio e responsabile. Allora, comincio a rispondere in maniera generica alla sua domanda. Le incomprensioni sono state chiarite soprattutto sui numeri, ci siamo spiegati. I 50 milioni di fondo per il finanziamento ordinario che abbiamo liberato oggi sono parte di questo percorso di chiarimento, ma è solo l'inizio. Nel senso che è necessaria una manutenzione della legge 240, la cosiddetta legge Gelmini, che noi avvieremo, stiamo già lavorando alla Commissione, avvieremo attraverso una Commissione dove ci saranno tutti, ci sarà la Crui, ci saranno gli enti di ricerca, è una legge che ha dieci anni, un'ottima legge, che però dopo dieci anni ha bisogno di un restyling, perché soprattutto rispetto al fondo di finanziamento ordinario, che è stato oggetto delle polemiche tra la sottoscritta e la Crui, diciamo che l'attuale fondo di finanziamento ordinario rappresenta la foto seppiata di un passato che in parte non esiste più. Quindi soprattutto il costo standard rischia di essere un vincolo, mi perdoni la tecnicalità, diciamo, alcuni elementi di vincolo all'interno del fondo per il finanziamento ordinario non hanno più ragione di esistere. E questo è il motivo per cui stiamo cominciando a liberare risorse. Ovviamente ad ogni discrezionalità, ad ogni autonomia corrisponde una responsabilità. Quindi io chiederò ai rettori di essere ancora più trasparenti, efficienti e sostenibili nei loro bilanci sulla base dell'allentamento di alcuni vincoli che in questo momento mettono in difficoltà entrambi, sia il Ministero sia la conferenza dei rettori come rappresentanti di tutti i rettori italiani. La Commissione si insedierà in autunno, ci stiamo lavorando adesso, ma io ho già chiesto alla conferenza dei rettori entro 90 giorni di farmi avere una proposta su come loro vedrebbero il loro FFO ideale, come vedrebbero il fondo di finanziamento ordinario del futuro, perché l'Università del futuro deve essere prima di tutto a misura di uno studente che sarà formato per mestieri che in parte ancora non esistono. quindi estremamente flessibile. Deve essere un'Università sostenibile e deve essere un'Università trasparente, perché i fondi che noi diamo alle Università, ripeto, al netto del Fondo per il Finanziamento Ordinario sono fondi pubblici di cui noi dobbiamo dare misura e ragione, come mi ricorda sempre qui il mio dirimpettaio, fino all'ultimo euro ai contribuenti. Quindi direi che il patto che abbiamo stipulato con Crui, ma non solo con Crui, con tutto il mondo dell'Università, è un patto di flessibilizzazione e trasparenza che inizia ma non finisce con la riforma della legge 240 e con la proposta che mi aspetto da loro tra 90 giorni su come potrebbe essere il nuovo fondo di finanziamento ordinario. Grazie, chiudiamo con la Reuters, Marta di Don Francesco. E al Vice Ministro Leo al Ministro Giorgetti volevo chiedere se riguardo il raddoppio della flat tax per chi trasferisce la residenza in Italia avete dei dati aggiornati su quante persone hanno beneficiato della misura e quante di queste magari hanno reinvestito in Italia? Grazie. Ad oggi sono 1186 mi sembra quanto abbiano reinvestito in Italia onestamente ed è molto difficile valutare la decisione di fare questo questo adeguamento che comunque diciamo così rimane interessante vanno nel senso che l'ho detto in sede internazionale al G20 e anche al G7 noi siamo contrari a inaugurare una stagione di gara e di competizione per creare situazioni di favore fiscale a persone e imprese si inizia questa gara paesi come l'Italia che hanno spazi fiscali assai limitati inevitabilmente sono destinati a perdo questo vale quindi sia per le persone fisiche che per le imprese se tutto il tema della global minimum tax il primo pilastro e quant'altro su cui noi ovviamente siamo impegnati quindi vediamo nel senso ad oggi i dati che abbiamo noi sono di questa natura dal 2017 ad oggi bene grazie a tutti buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti